Gratteri all'ONU lancia l'allarme sulle mafie, grandi pericoli dall'intelligenza artificiale. Al Palazzo di Vetro dell'ONU, a New York, si è aperta la conferenza. Le sfide imposte dalla criminalità organizzata nell'era dell'intelligenza artificiale e di Internet, promossa dalla Fondazione Magna Grecia, in collaborazione con la rappresentanza permanente d'Italia alle Nazioni Unite. Molto atteso, l'intervento di Gratteri, che ha parlato di Dark Web, la nuova frontiera della mafia e quindi anche dell'antimafia. Gratteri ha sottolineato che mentre le mafie si muovono velocemente, le istituzioni rimangono indietro nel contrasto all'uso delle nuove tecnologie, con la forte accelerazione delle mafie all'interno del Dark Web. Queste sono in grado di fare transazioni per tonnellate di cocaina, armi da guerra, prostituzione, commercio in oro. Comprano isole. L'Italia, negli ultimi dieci anni, ha fatto passi indietro rispetto a paesi come Germania, Olanda e Belgio, che ora devono aiutarci e ci passano informazioni. Gratteri dice che nelle forze dell'ordine lo Stato dovrebbe attrarre più giovani ingegneri informatici e pagarli bene, altrimenti verranno assunti dal settore privato. Stiamo perdendo troppo tempo e tanto campo rispetto a quello conquistato dalle mafie, ha ribadito Gratteri, spiegando che oggi la mafia non conta più sul pizzo, business ormai da morti di fame. Resta il commercio della droga è il più proficuo capace di generare alle mafie italiane oltre 50 miliardi di euro all'anno. Gratteri ha fatto degli esempi. Una famiglia dell'Andrangheta ha soldato da degli hacker tedeschi e rumeni per fare transizioni finanziarie nell'arco di 20 minuti in banche che si trovano in tre continenti diversi. Il procuratore ha illustrato vari esempi di cybercrime in azione anche in Italia. A Napoli ho visto come la camorra è stata in grado di costruire una banca online che ha riciclato qualcosa come 3 miliardi e 600 milioni di euro di cui siamo riusciti a sequestrare solo 2 miliardi, ha detto. Più le mafie si arricchiscono, più saranno in grado di condizionare l'economia mondiale. Gratteri ha anche detto che mentre le mafie hanno iniziato ad essere nel web utilizzando anche i social come Facebook, ora sono passati a TikTok, dove hanno più popolarità. Gratteri ha concluso il suo discorso nella necessità che l'ONU rimanga coinvolta nella lotta a questi fenomeni che non riguardano solo alcuni paesi ma tutto il mondo.